Io non posso più farne a meno. Da quando l'ho scoperto, nulla è più come prima. E la cosa che più mi piace è che si può fare di strada. Rispetto dell'ambiente. E tu, cosa ne pensi di Washout? Prenotare è facile, come bere un caffè. E quando chega no Brasil?